Il nuovo servizio di lavaggio notturno in piazza dei Cavalieri e nelle vie limitrofe durante i fine settimana estivi e il potenziamento del servizio di pulizia del viale delle piagge per quel che riguarda l'igiene urbana e poi più di un milione di euro di nuovi interventi di manutenzione stradale straordinaria già finanziati e in parte in corso d'opera. Così il bilancio dei 4 anni di global service per l'igiene e la manutenzione della rete stradale comunale affidato ad AVR è presentato questa mattina a Palazzo Gambacorti durante una conferenza stampa a cui sono intervenuti il sindaco Filippeschi, l'assessore ai lavori pubblici Serfogli e l'amministratore delegato di AVR Nardecchia. È diventato anche l'occasione per lanciare due nuovi servizi ed un pacchetto di interventi di riasfaltature e riqualificazione di marciapiede e percorsi stradali. Sì, sono risultati importanti perché intanto abbiamo un minor numero di incidenti stradali, abbiamo un minor numero di segnalazioni, segno che le strade o i marciapiedi si riparano più rapidamente. Naturalmente problemi ce ne sono e servirebbero tante risorse in più per fare una completa manutenzione, però abbiamo fatto un sistema di segnalazione, di rilevazione e di pronto intervento che fa la differenza. Ci sono anche servizi nuovi, fortemente richiesti dai cittadini, come lo spazzamento e la pulizia con l'acqua, insomma la pulizia speciale di Piazza dei Cavalieri, servizio che parte ora, in orario notturno. Quindi questo significa che noi interveniamo direttamente quando si creano certi problemi ben conosciuti, oppure di viale delle piagge in cui si farà uno spazzamento più frequente per togliere le foglie, per dare a questo viale tutta la sua bellezza e la massima pulizia. Sono anche queste esperienze state prese ad esempio da altre amministrazioni che stanno più di recente inserendo un sistema copiato dalla città di Pisa, quindi per noi è, penso sia importante per l'amministrazione, ma anche per noi perché probabilmente abbiamo anche ben operato noi, seguendo tutte quelle che sono state le azioni di indirizzo e di controllo che l'amministrazione ci ha indicato. Grazie.